Vabbè, comunque come dice il poeta, mi vanno fussati, sempre un brano di Sanremo, d'altra parte non finisce mica il cielo, anche se manchi tu, che succede? Mi hanno quasi spaventato, è l'uomo che non è cambiato? E' un'urgenza Che è successo? E' incinta? E' giusto E' un'urgenza La piccola Katia Lamanna è vicina al gradino della chiesa con la sua maestra e si è smarrita I genitori sono pregati di andare a riprenderla E' spaventato Ma chiamato via? Ma chiamato via? Ma chiamato via? Ti allontani allora Gli uomini non cambiano proprio E' vero Sto tanto dicendo, ti conosco da una vita E' già trallargato lui molto Comunque Speriamo che si ritrovi la mamma Ma la bambina non corre pericoli, credo, perché è con la maestra Ma la maestra non è un'amica di questo signore E non finisce mica il cielo